5-9, grazie ancora, ciao Massimo, il K1 Golf Papa Golf, fortissimo, sei sotto casa mi sembra, 5-9 F473 Perfetto, d'accordo Leo, bene, anche tu sei 5-9 per fortuna, il mentimento è provato di nuovo ma non c'è sottoverso, è proprio basso, basso, basso Ti passo Betti, buona giornata Ciao Massimo, grazie Leo, buongiorno, Italia Kilo 1, Quebec, Florida, Messico, 5-9, buoni collegamenti Perfetto, Betti, 5-9 al log, arrivate 9,30, 9,40 reali oggi, fortissimo Ciao, un abbraccio, grazie ancora, buona attività e buon fine settimana Quarezzetta, Italia Washington 5, Europa, Francia X-Ray, portatile, da IFF473 Italia Nenzi 3, come si faccia? Italia Nenzi 3? Ok, ciao, Italia Norvegia 3, Radio Yankee Eco, QRP portatile, 5-9 Ok, Italia Nenzi 3, Radio Yankee Eco, QRP portatile, per te 5-9, IFF473, cambio Ciao, ti ringrazio tantissimo, buona giornata, ciao Ciao, quarezzetta? Florida 8, Florida, Sierra Charlie Florida 8, Florida, Sierra Charlie, thank you, you're 59, 473, reference, over Yes, good morning, Leonardo 5, per te, grazie, 773, 44, go, bye Bye bye, 44, QZ? CQ40, Italy Whiskey 5, Echo, Florida X-Ray, Portable, India, Flora Fauna, 473, QRZ Quarezzetta, Italia Washington 5, Europa, Francia X-Ray, portatile, IFF473, QRZ Quarezzetta, Italia Washington 5, Europa, Francia X-Ray, portatile, da IFF473, QRZ 9, Ancora 6, San Marca, Radio, 9, Alpha 6, Delta Radio, you're 59, India, Flora Fauna, 473, over Roger, Roger, very good morning, thank you for the new one, 473, you're 59 into the eastern part of Croatia, 73 under 44, and of course, please kill yourself by the bureau, 73, good luck, Ciao, ciao, ciao 44, thank you, QZ? Da CQ40, Italy Whiskey 5, Echo, Florida X-Ray, Portable, India, Flora Fauna, 473, QZ? Quarezzetta, Italia Washington 5, Europa, Francia X-Ray, portatile, IFF473, QRZ? Oscar Echo 3, Charlie, hotel Charlie, thank you, you're 59, India, Flora Fauna, 473, over Oscar Echo 3, Charlie, hotel Charlie, thank you, you're 59, India, Flora Fauna, 473, over Oscar Echo, thank you, also 599, 599, the name is Chris, 33, 44, ciao Ciao, Chris, thank you, my name is Leo, Lima Echo, Ontario, thank you, 44, bye bye CQ40, Italy Whiskey 5, Echo, Florida X-Ray, Portable, India, Flora Fauna, 473, QZ? Golf Delta, Golf Delta Golf Delta QSL, fortissimo, 59, 10 reali, 59 per il log, nome Leonardo, la referenza è IFF473, la riserva naturale del Ponte Aburiano e Penna, provincia di Arezzo, JN53 Vittor Mike, se vuoi segnarti il locatore, grazie ancora, buona attività in radio, buon fine settimana Ok, grazie mille, grazie mille, a prossimo, ciao, ciao per lì Ciao, grazie, QRZ, Italia Washington 5, Europa, Francia X-Ray, Portatile, da IFF473, QRZ Delta, Delta E Delta, Delta, ancora? Ciao, Italia November 3, Golf Delta, 59, Roger Roger, Italia November 3, Golf Delta Delta, 59, IFF473, cambio Italia November 3, qui tu, Delta Delta, Quebec Delta Delta, Roger Ok, scusami, Italia November 3, Quebec, Denmark, Denmark, Quebec Delta Delta, ti confermo 59, grazie Il K2 X-Ray, Delta, Francia, ciao, buongiorno, 59, IFF473 USL, ciao, ben sentito, 59, che tempo, buona giornata Ciao, the station, Florida, Florida again? A QRZ, India Whiskey 5, Echo, Florida X-Ray, Portable, India, Flora Fauna, 473, QRZ Sugar Papa 5, X-Ray, Oscar Canada, thank you, you're 59 Good luck, 44, QRZ Delta Hotel 5, Victor Kilo Delta Hotel 5, Victor Kilo, you're 59 Thank you, for 5 and 9, you also 5 and 9, thank you, 44 44, thank you, QRZ Ok, 2, PAY, you're 59, India, Flora Fauna, 473, over Roger, roger, you're 5 and 7, oh, 5 and 7, bye bye, 44, thank you, QRZ Delta Lima 2, November Delta, thank you, you're 59 QSL, thank you, 44, Fiduzen Ciao, ciao, QRZ CQ40, Italy Whiskey 5, Echo, Florida X-Ray, Portable, India, Flora Fauna, 473, QRZ The Echo Alpha 3, Echo Alpha 3 The Echo Alpha 3, the Echo Alpha 3, the vitamin,汤 Mas QSB, the Echo Alpha 3, theторов5 de nuevo, profavor De Echo Alpha 3, the Echo Alpha 3, hotel Kilo Yokoama, Echo Alpha 3, hotel Kilo Yankee, it's a 59, otherwise I don't have any doubt There is it to smile to look at QSB, india Whiskie 5, Echo Saudi X-Ray, portable la cq40 italy whiskey 5 eco florida x-ray portable india flora fauna 473 qa z ecco alfa 3 ecco alfa 3 di nuovo onolulu radio mike eco alfa 3 hotel messico ancora ancora ecco alfa 3 hotel november messico hotel nancy mike ok ecco alfa 3 hotel lima mexico thank you you are about 5 and 7 in qsb india flora fauna 4 7 3 quarto 7 terzo ok ciao chaito suerte thank you qa z india whiskey 5 eco florida x-ray portable india flora fauna 4 7 3 qa z delta mike 7 mike alpha uh portable uh thank you you're 59 good morning thank you for 59 59 also delta lima 204 okay thank you for delta lima uh 204 uh thank you and 44 bye 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 qa z india whiskey 5 eco florida x-ray portable india flora fauna 4 7 3 qa z qr z italy a washington 5 europa francia x-ray portatile iff 473 qr z italy a whiskey 8 ancora solamente italia whiskey 8 ok italia whiskey 8 delta guatemala zelano per la tour antonio grotta milanata provincia del vellino 59 da parte mia mi arrivi benissimo ok antonio grazie qui il nome leonardo italia whiskey 8 delta golf zulu riprende italia washington 5 europa francia x-ray portatile ehm la referenza è una riserva naturale iff 473 riserva naturale ponte a buriano e penna in provincia di arezzo tutto qua arrivi fortissimo 59 per logo ma 9 20 reali antonio grazie ancora buona attività in radio buon fine settimana ok ti ringrazio sempre se è possibile una conferma tramite queste lo guardate da un punto pomo col tuo indicativo non problema ok ti ringrazio e buon divertimento ciao antonio si è quesse le via via lott w o anche via bureau per me non c'è problema ciao grazie un abbraccio qr z ancora vediamo un po c'era una zona 5 zona 5 grazie a tutti